Si amplia l'offerta automobilistica della concessionaria Satiri Auto a Città di Castello. Nella struttura di Viale Romagna, che già ospita i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Ford, alla presenza di oltre 300 persone tra cittadini, appassionati di auto e numerosi rappresentanti delle istituzioni, la famiglia Satiri ha infatti inaugurato il nuovo showroom Jeep. Con Jeep abbiamo un nuovo brand del gruppo FCA e qui a Città di Castello, nel nuovo showroom, abbiamo potuto offrire tutti i brand della Satiri Auto. Molto interessante sarà sempre qui a Città di Castello il nuovo polo post vendita che stiamo ultimando, dove avremo tutta l'offerta Satiri Auto dei brand che rappresenta nel post vendita, con del personale altamente formato dalle nostre case madri, pronto al servizio dei nostri clienti. Un nuovo spazio Jeep, quindi, di 700 metri quadrati, a cui si aggiungerà nel 2020 un'ulteriore struttura di 2000 metri quadrati, per una sede che occuperà a pieno regime circa 20 persone. Questo è un investimento importante, molto significativo, l'anno scorso l'hanno inaugurato, quest'anno crescono ulteriormente, si allargano, ampliano, quindi anche l'offerta migliora decisamente, per cui, ovviamente, come amministrazione comunale non possiamo che essere molto soddisfatti, di questo vogliamo ringraziare la famiglia Satiri, perché davvero dimostra di essere molto legata al territorio. C'è una classe imprenditoriale molto legata al territorio, soprattutto nei rapporti con i loro dipendenti, che in sinergia hanno contribuito nei momenti comunque di crisi in generale di tutta la regione, hanno determinato che questa grande azienda è andata avanti, anzi si migliora e affronterà più forte le nuove sfide. Qua c'è veramente del cuore del sentimento e quando c'è il sentimento i clienti, i cittadini lo percepiscono sempre. Questo vale in tutte le cose, dalla politica all'imprenditoria, quindi onore al merito di questi grandi imprenditori che in un momento così difficile riescono ad ampliarsi, ad aprire un ulteriore salone come questo, che sarà indubbiamente un punto di riferimento per tanti automobilisti anche della nostra straordinaria zona. Nata nel 1966, la concessionaria Satiri Auto continua quindi a guardare al futuro e a puntare sulle giovani generazioni. Siamo un'azienda che diamo spazio ai giovani, abbiamo un management molto giovane. Noi continueremo ad investire in uno sviluppo sostenibile che possa permettere non solo alla Satiri Auto di crescere, ma di avere un'eccellenza anche nella regione Umbria e quindi dare un contributo a tutti quanti, soprattutto alle nuove generazioni.